Roberto Galugi, ecco che arrivano le botte, direttore, per carità, dialettiche, niente di più, direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, benvenuto. Buonasera Falcetti, buonasera. Mi scusi rido. Allora, tra l'altro weekend caldo, quindi molti di noi andranno in giro, molti di noi avranno delle cose bellissime da mangiare, e troveranno cose belle nelle città d'arte, di tutto, cose da mangiare, da bere, bar, ristoranti stupendi, ma anche fregature in agguato. Perché è successo a Roma l'ultima volta, però succede molto a Roma. Voi avete delle statistiche, poi mi dirà, c'è stato uno scontrino da 430 euro, l'avrete letto forse, pagato da due giapponesi per due piatti di spaghetti. Chiaramente polemica sul web, il conto è stato postato su Facebook, lo scontrino, è diventato subito virale. C'è stato scritto anche la mancia ai camerieri, 80 euro, scritto sullo scontrino, la mancia, 80 euro. Allora, il ristorante ribatte, il nostro menù è chiaro, non hanno preso solo il primo, ma anche il pesce che è fresco, che dai è fresco. Ma qui si sa di due piatti di spaghetti. È successo dalle parti di Castel Sant'Angelo, non dico di più. 349,80 euro. Quante volte abbiamo protestato con lei, Roberto Calugi, che è il direttore generale dei pubblici esercizi, Commercio, Fipe, eccetera. Ma com'è possibile sta roba? È legale? Cosa dice la legge? Ma allora, innanzitutto diciamo che se le cose sanno come riportano gli organi di stampa, come riportano anche le due turiste, è assolutamente indifendibile. Anzi, le direi di più. C'è lo scontrino pubblicato, eh? Ma io ho visto lo scontrino pubblicato, Falcetti, in verità, ma ripeto, non voglio difendere nessuno, perché se le cose sanno in questo modo è assolutamente indifendibile il comportamento. Non c'è il dettaglio di quando... Non c'è il dettaglio. Allora, io la prima cosa che farei, visto che bisogna sempre dare, come dire, beneficio del dubbio, proprio perché il ristoratore dice hanno mangiato qualcos'altro. Sono certo che il ristoratore avrà una copia della... E lui perché non l'ha scritto? E' quello che mi sto chiedendo anch'io, perché se le cose sono così, non solo è un danno per chi ogni mattina salva e fa questo mestiere, che è uno dei mestieri più difficili del mondo. E con grande onestà e grande qualità ed eccellenza, perché ne abbiamo di posti così. Esattamente, perché siamo conosciuti in tutto il mondo. Ricordiamo. Ma ci aggiungo un'altra cosa, noi siamo stanchi di avere per il comportamento di qualche pecora nera, magari, ripeto, vedremo lo scontrino e ci renderemo conto che non è così, ma per qualche pecora nera, come giustamente diceva lei Falcetti, non è la prima volta che capita a Roma, poi di avere un danno di macchina turistica. Sì, a me dispiace. Perché Roma vive di questo, diciamo la verità. Roma oggi vive molto di ristorazione. Ma poi c'è dappertutto questo problema. Ma a parte questo, possono beccare il turista? Ma a volte beccano anche noi che viviamo in una città. Ma si può scrivere mancia 80 euro sullo scontrino? Ma guarda, è la prima volta che lo vedo ed è una roba che non sta nè in cero nè in cero. Ma non è un modo per evitare di pagare le tasse su quell'importo? Beh, oddio, l'hai messo sullo scontrino, quindi no, in questo caso qui... Beh, 349,80... Posso dare un'interpretazione... No, mi scusi un attimo. No, un attimo, perché lei tende comunque a coprire anche quelli che non sono legati alla FIPE, eccetera. Perché è buono, ha buon cuore, diciamo così. No, non è vero. Sì, sì, c'è un piatto di spaghetti al posto del cuore. Vabbè, al di là di questo, 349,80, io dovrei pagare le tasse su questa cifra. Se tolgo 80 perché la mancia, e si presuppone che l'ho data ai miei camerieri, io non pago 80, su quelli 80 euro non pago le tasse. Allora, però, distinguiamo, se poi andiamo sul tecnico... No, no, è molto semplice, no, non è tecnico, dai, capisce anche un pollo. No, una cosa è il servizio, un'altra cosa è la mancia. C'è scritto mancia? Eh, infatti non mi piace, se glielo voglio dire. Posso dare un'interpretazione malevola, ma proprio perché si dice che a pensare male... Realistica, lei è un espertone. Ecco, io non vorrei che qui si sia, come dire, cercato di mettere una cifra un po' all'americana. Sai come quando si va negli Stati Uniti? Siccome c'erano dei turisti, si è detto che il 20% è la mancia che negli Stati Uniti si fa o all'estero si fa. Allora hanno usato questa modalità. Io spero non sia così e invito veramente il risolatore, che non è un nostro associato, a pubblicare la reale fattura in modo tale che tutti quanti potremmo capire... Non c'è, la deve fare apposticipata. Questo è lo scontrino, se ha fatto lo scontrino non può aver fatto la fattura, quindi non può produrla. Uno, due, c'è scritto mancia 80 euro, io mi domando, è una domanda, non è un'allusione, domanda. Quegli 80 euro dentro lo scontrino sono... Non vanno bene. Ci sono tasse dentro? Ma io mi domando, danno 80 euro, mi fermo qua. C'è qualcosa che non torna. Anche a livello fiscale, magari invece è tutto regolare. Chiediamo, facciamo delle domande, siamo giornalisti, figuriamoci lei. Anche lei ha tutto l'interesse che queste cose vadano in porto. Domando, perché lei è quello che rappresenta tutti. Gli onesti. Eh, vogliamo parlare chiaro. E questo, se c'è qualcosa che non è chiaro, insomma, danneggia un po' tutti. Domanda. Ognuno può fare i prezzi che gli pare, eh? Nel proprio locale. Guarda, guardi Falcetti, la legge, mai come in questo caso, è chiarissima. È addirittura una legge che esiste da più di 70 anni. È il TULS, articolo 180. Qualcuno vada su Google e scriva articolo 180 del TULS. Così è proprio che viene chiarissimo. Vabbè, quindi? Il TULS, è il testo unico di legge pubblica sicurezza. L'articolo 180, adesso vado a memoria, ma dovrebbe essere quello. E dice una cosa molto semplice. I pubblici esercizi sono tenuti ad esporre in maniera chiara la lista dei prezzi. Ora, adesso esageriamo, ma per far capire. Se lei domani vuole andare in un bar qualsiasi e prendersi un caffè e pagarlo 300 euro, lei è liberissima di farlo e l'esercente è liberissimo di chiederglielo. A patto che prima che lei fa l'acquisto, lei sia perfettamente consapevole di quello che sta pagando. Ma, mi passi in una logica di libero mercato, i prezzi imposti non esistono più. E quindi faremmo paradossalmente un reato nell'imporre dei prezzi. Certo, devono essere esposti. Il prezzi è pienamente consapevole. Prezzi esposti, bar e ristoranti, qualsiasi posto, prezzi esposti. Io sono tenuta a vederli, esposti bene, non nascosticchiati. Assolutamente sì, e anche la questione del prezzo a letto, il cliente deve sapere quanto pesa quel pesce. Perché se no, se io dico che quel pesce costa 20 euro, poi devo sapere il prezzo finale quanto mi viene. Va bene, chiuso. Posso aggiungere una cosa, però, Falcetti? Mi dica, che è un rigopiano che mi aspetta, lo schiaffone. Un po' 30 secondi. Oggi siamo un po' più aggiornati rispetto al 1940, cioè quando fu fatta questa legiosi. Oggi esiste internet. Basta andare su internet quando si va, come dire, anche in qualche locale che non si conosce. Siamo pieni di recensione, più o meno validi. Andiamo a vederlo. Siamo andati. Se io andiamo a vedere il sito di recensione di questo ristorante, mi renderò conto che forse qualche problema c'è. Siamo andati questa mattina. Abbiamo verificato anche questo, Francesca Mechelli. I prezzi non sono al livello di due piatti di spaghetti 349,80, anche per quanto riguarda il pesce. Quindi non c'è il segnale. Però voglio dire, loro magari quel giorno volevano fare quel prezzo, dovevano esporlo, visibile e con molta chiarezza. E quelli 80 euro di mancia, mi dispiace, c'è qualcosa che non torna. Poi magari ci sbagliamo e ci scuseremo diritto di replica. Grazie Roberto Calugi. Grazie direttore. E' stata la ristorazione italiana, Falcetti. Assolutamente sì, sì, sì. Mi raccomando. E difendiamola. Sempre. Da chi la danneggia. E' uno dei nostri ultimi tesori. Dipendiamola sempre e guai a chi la rovina. Sì, direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con commercio. Sto andando di corsa perché ho paura. Perché poi, sapete cosa c'è? Spaghetti, pizza, quello che vi pare, la qualità.